Questo studio coinvolge quattro neonatologie italiane che stanno lavorando in rete, la neonatologia di Modena, della clinica Mangiagalli di Milano, dell'ospedale Careggi di Firenze e del policlinico Sant'Orsola di Bologna. L'esperienza di questo lavoro di rete è stata un'esperienza sicuramente positiva, ci ha consentito di trovarci, di confrontare le varie esperienze professionali anche, di cercare di trovare strumenti comuni e utili a valutare con gli stessi criteri i pazienti che verranno arruolati. Ci ha consentito anche di scambiare informazioni su quello che può essere tutta la valutazione del neonato prematura anche al di là di quello che può essere lo studio per il quale ci siamo trovati in modo specifico. È un lavoro sicuramente impegnativo in quanto costruire una rete vuol dire doversi anche incontrare al di fuori della propria sede, ma ha sicuramente dei risvolti positivi perché arricchisce tutti dal punto di vista professionale.